Musica Musica Micchia 5 verso 1 Ma da te, o Betlemme, e frata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà il dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questa è la parola anche per stasera, chiediamo i nostri campi, preghiamo il Signore. Gloria a te Padre, ti rendiamo grazio Dio nostro con tutto il nostro cuore, perché ci onori con la tua presenza, ci onori con la tua parola. La tua parola è una benedizione, una ricchezza per l'anima nostra. Anche stasera la vogliamo ricevere con tutto il cuore, l'attendiamo con brama intensa e ti preghiamo fa che risulti di consolazione, di benedizione per le anime nostre. Grazie nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria al Signore. Michea stesso specifica un altro aspetto, e noi ne vedremo più di uno con l'aiuto del Signore, ma un altro aspetto del significato di dominatore, cioè in che modo il Signore domina, in che modo Egli è sovrano. Perché letta così questa parola, questa affermazione, quindi ci fa pensare alla potenza di Dio, e quindi è chiaro, nessuno gli può stare a fronte, ma ripeto, il profeta Michea spiega, spiega qualche versetto più avanti, Che cosa significa? In che modo Egli dominerà? E il modo attraverso il quale Egli domina riempie il nostro cuore veramente di gioia e di consolazione. Perché questo grande, immenso, infinito, onnipotente Signore, creatore del cielo e della terra, sovrano al di sopra di tutte le cose, pensate un po', Egli ha scelto di essere il pastore delle anime nostre, Egli domina nella nostra vita come un pastore. E infatti, ascoltate la spiegazione che dà Michea a partire dal versetto 13, Egli starà là e pascolerà il suo greggio con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio, e quelli abiteranno in pace, perché allora Egli sarà grande fino alle estremità della terra, sarà Lui che porterà la pace. Gloria al Signore, gloria al Signore, il dominatore e il pastore delle anime nostre. Davide aveva scoperto la sovranità del Signore, la sua gloria, il suo dominio, ed Egli si è appieno affidato nelle mani del Signore dicendo, Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, gloria al Signore. Egli starà là, dice qui il nostro testo. Cominciamo da questa affermazione stasera, pregando il Signore che veramente raggiunga con la virtù dello Spirito Santo i nostri cuori, Egli sia il grande pastore e il sommo pastore, dice la parola, è il pastore eterno, è il pastore delle anime nostre, e il profeta Michea, parlando della sua venuta, parlando appunto di Cristo Gesù, il pastore di Israele, il pastore delle anime nostre, dice, Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore. E' di grande edificazione questa affermazione, Egli, quindi non un uomo, non un angelo, non un inviato qualunque, ma Egli stesso, il sovrano, Egli stesso il dominatore, Egli stesso quindi il creatore del cielo e della terra, Egli stesso sarà il pastore delle anime nostre. In Ezechiele Egli presenta altri pastori, parla dei pastori umani che sono sottoposti alla sua volontà e rimprovera, rimprovera al capitolo 34 i pastori infedeli che non hanno ubbidito e non hanno servito il gregge come Dio desidera, ed Egli stesso dice a un certo punto, Io stesso pascerò in buoni pascoli e i loro ovili saranno sugli alti monti, esse riposeranno là in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice il Signore, Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte, io le pascerò con giustizia. Mi fermo qui ma vi invito a rileggere interamente il capitolo 34 di Ezechiele dove parla di questo intervento soprannaturale del Signore, vuole dire laddove il pastore terreno non arriva, laddove il pastore terreno è assente, laddove il pastore terreno magari ferisce, non è sensibile, non è attento, non è ubbidiente alla mia volontà e non pasce e non cura e non ferisce, beh io stesso pascerò le mie pecore e Michè annuncia, egli sarà il dominatore, quindi egli sarà il pastore delle anime nostre e ripeto egli starà là. Ci parla quindi della fermezza, non di una pastura occasionale, non è il mercenario che oggi c'è e domani non c'è, non è l'idolo di turno che oggi è in autorità e domani è vinto da un altro idolo più forte. Anticamente accadeva dopo le guerre tra una nazione e l'altra, un popolo e l'altro, che l'idolo della nazione vincitrice veniva imposto sull'idolo della nazione che soccombeva e che perdeva e quindi quella nazione perdeva il suo Dio, la spieghiamo così in modo semplice, e si assoggettava ad un altro Dio e molte nazioni sono state soggette nel corso dei secoli e dei millenni a più domini, a più dominatori, a più dei nella loro vita, ma la parola ci ricorda che il nostro pastore starà là, gloria a Dio. E questa affermazione ci parla di fermezza, egli starà là, addirittura il termine originale fa riferimento a Cristo che starà là, starà vigile, starà in piedi per vigilare sul suo gregge. Quindi ci parla di una posizione autorevole dalla quale egli può osservare e nulla sfugge all'occhio attento del Signore, gloria a Dio. Egli dalla sua posizione di autorità e dalla sua posizione di sovrano, dalla sua posizione di dominatore, egli starà fermo, egli starà là, ripeto, per osservare, per dirigere. Tutto questo ci parla di stabilità del nostro Dio, ci parla della fermezza del nostro Dio, dell'immutabilità del nostro Dio. Egli non è un uomo che può mutare pensiero. Dio è stabile, egli è fermo nel suo ruolo di pastore e nel suo ruolo di pastore egli vede ed egli controlla ogni cosa. Egli starà là, dice la parola del Signore. Ricordate quando Stefano, sotto il colpo dei sassi, mentre veniva lapidato in quella grande sofferenza, egli disse, vedo i cieli aperti e Cristo in piedi alla destra del Padre. Ecco il pastore presente, ecco il pastore che stalla, il pastore che non è assente in alcune circostanze della nostra vita, ma egli ha fatto una promessa, io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Io resterò sempre con voi, fino alla fine. Ciò significa che nei momenti della mia gioia, nei momenti di felicità, di benessere, il Signore è con me e posso gioire e glorificare il Suo nome, ma anche nei momenti della tribolazione, nei momenti della malattia, nei momenti della sofferenza, nei momenti del lutto, nei momenti anche della persecuzione, egli starà là. Gloria al Signore. Io mi edifico e invito ciascuno di voi a riposarsi su questa parola. Egli starà là. Egli è sempre presente ed è sempre attivo verso i Suoi figliuoli. Egli starà là, dice qui la parola, e pascolerà, pascolerà il Suo gregge. Innanzitutto è il Suo gregge, un gregge che Egli si è acquistato con il Suo prezioso sangue. Egli non è, ripeto, un mercenario, ma Egli è il pastore delle anime nostre, Egli è il Signore delle anime nostre. Noi Gli apparteniamo semplicemente perché Egli ci ha acquistati, ci ha comprati con il Suo prezioso sangue e ci ha fatti i Suoi. Siamo figli di Dio. Siamo pecore del Signore e quindi Egli ha un'attenzione particolare sopra i Suoi figliuoli. La parola ci parla dell'occhio di Dio che scorre e osserva e guarda i Suoi figliuoli, osserva tutta la terra e ho piacere di pensare di aver affidato la mia vita a qualcuno che è stabile e lo è in eterno. Egli starà là. Infatti, dice anche Micheal, versetto 1, sarà il dominatore, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Possiamo dire insieme gloria a Dio perché Egli è lo stesso. Ieri, oggi, è in eterno. Ieri Egli era il sovrano, ieri Egli era il pastore di quanti ci hanno preceduti, oggi è il pastore delle anime nostre, Egli continuerà a svolgere il Suo ministerio di pastore fino alla fine, fino a quando saremo con Lui per tutta l'eternità. Pascolerà il Suo greggio, che vuol dire che qui dobbiamo pensare un po' a tutta quella che è la funzione del pastore. Forse oggi ci sfuggono certi aspetti. Un tempo eravamo un po' più vicini anche all'attività della pastorizia e forse alcuni esempi erano molto più facili da assimilare, da comprendere, ma ultimamente mi pare che di pecore non ne vediamo più, se non in tv o in qualche cartone animato. Forse alcuni bambini non sanno neanche come è fatta una pecora, ma dovremmo calarci un pochino nella cultura del pastore e quando Michea scrive questo testo, egli appunto vive in un... e parliamo di Betlemme, quindi, parliamo di Efrata, abbiamo detto all'inizio che i pastori erano ricordati, i pastori che ricevettero l'annuncio della nascita di Gesù, quindi era comprensibile non solo a quei pastori ma alla gente di allora che cosa significa o cosa potesse significare che il Signore starà là e pascolerà il suo gregge e lo pascolerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore e quelli abiteranno in pace. Vuol dire che egli vigila sul suo gregge, vuol dire che egli nutre il suo gregge, vuol dire che egli provvede per me, egli provvede per te, vuol dire che non devi essere ansioso e non devi essere preoccupato, dice la parola, sono i pagani che sono preoccupati, che pensano a queste cose, ma il Padre vostro Celeste, che poi è il pastore delle anime nostre, sa le cose di cui avete bisogno. E Davide, nello scrivere il Salmo 23, dice egli, è il mio pastore, e egli mi guida lungo i sentieri di giustizia, egli mi conduce lungo i pascoli verdeggianti, lungo le acque calme, serene, il Signore è colui che apparecchia la mensa dinnanzi a me, è il Signore che provvede per la mia vita. Tu puoi provvedere per la vita materiale, io posso provvedere per la vita materiale, ma chi è colui che può provvedere il cibo spirituale per l'anima nostra? Chi è colui che ti può dare il pane e il pane della vita? Chi è colui che può dissetarti con un'acqua che è l'acqua della vita, che scaturisce in vita eterna? Solo il pastore eterno è colui che può provvedere per ciascuno di noi in questo modo. E la scrittura ci ricorda che l'uomo non vive di pane solamente, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La parola di Dio è il primo cibo che riceviamo come gregge del Signore. Dio si è lodato perché la amiamo, perché la leggiamo. Questa parola ci nutre e questa parola è un cibo sano, è un cibo selezionato, è un cibo buono. Uno dei miei nonni era pastore di pecore pure. Non lo era direttamente, ma aveva le pecore. Io ricordo che una volta alcune pecore rientrarono, ricordi di bambino, ma ho chiaro questo ricordo, rientrarono ed erano gonfie e continuavano a gonfiarsi. Non so chi di voi è esperto di queste cose. E mio nonno dovette intervenire immediatamente, addirittura forando, facendo un buco nella pancia della pecora per farla sgonfiare. E poi spiegò che aveva mangiato un certo tipo di erba e un certo tipo di erba che produceva questo problema fino a far scoppiare letteralmente le pecore. Ecco, quando ci allontaniamo in un campo straniero, quando ci allontaniamo dalla presenza del Signore, quando ci allontaniamo dal cibo sano, dal pascolo verdeggiante che è la parola del Signore, rischiamo di cadere quindi in cibi che possono essere avvelenati e possono essere pericolosi per l'anima nostra, possono essere pericolosi per lo spirito nostro, cibi che possono uccidere, che possono far male, che possono comunque disturbare, che possono far ammalare il credente. Dio sia lodato perché Egli stesso pascolerà il suo greggio. Gloria a Dio. Io mi sento benedetto dal Signore, mi sento guidato dal Signore, mi sento nutrito dal Signore. Io non so se voi sperate e confidate soltanto in questo vostro pastore terreno, poveri voi, ma se ciascuno di voi confida e spera nel pastore, nel supremo pastore, nel pastore eterno, in qualunque situazione, in qualunque circostanza ti trovi, Egli ti può saziare, Egli può ristorare l'anima tua. E dovunque ti trovi, ripeto, in qualunque situazione, per quanto grave, difficile o irraggiungibile possa essere, ricordati sempre, Egli starà là. Gloria a Dio. Egli sarà presente, tant'è che anche Davide nel Salmo 20,13, quando anche attraversassi la valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché Tu sei con me, Signore. e quindi anche nell'esperienza della morte che spaventa la maggior parte delle persone, il credente può dire io non temerei alcun male perché ho la certezza che Egli starà là. Possiamo dire gloria a Dio insieme. Egli starà là. Egli ci nutre con la Sua parola. Egli soccorre coloro che soffrono. Egli interviene nella vita di coloro che sono nel bisogno e lo fa in una maniera straordinaria perché essendo il pastore Egli ci conosce e ci conosce individualmente. In Giovanni 9 è scritto a Lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la Sua voce ed Egli le chiama per nome e le conduce fuori. Va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la Sua voce. Dice più avanti Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Grazie Signore. Riempie il tuo cuore di gioia stasera sapere che il Dominatore è il pastore dell'anima tua e il pastore dell'anima tua ti conosce. Io non ti conosco ma il Signore ti conosce gloria a Dio se andiamo a scoprire il Salmo 139 è una meraviglia questo Salmo perché ci parla appunto della conoscenza che il pastore ha di ciascuno di noi in una maniera speciale. Dice Tu mi hai esaminato Signore e mi conosci. Tu sai quando mi siedo quando mi alzo tu comprendi da lontano il mio pensiero tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu Signore già la conosci a pieno tu mi circondi mi stai di fronte mi stai alle spalle poni la tua mano sopra di me oh la conoscenza che hai di me è meravigliosa addirittura troppo alta affinché io possa arrivarci affinché io possa comprenderla. Vedete come il nostro pastore ci conosce e ci conosce nei minimi particolari vedete come egli conosce anche quella parola che non è ancora arrivata sulla nostra lingua ciò vuol dire che egli conosce i pensieri del nostro cuore conosce i segreti del cuore conosce anche le ansie del cuore egli sa quando vorresti esprimere una parola e non riesci forse a trovare il vocabolo giusto e non arriva neanche sulla tua lingua abbi la certezza che egli starà là ed egli già conosce a pieno il tuo pensiero e conosce a pieno la tua necessità perché conosce a pieno il tuo cuore tu sai tutto mi hai esaminato sai quando mi alzo conosci da lontano il mio pensiero mi scruti quando cammino quando riposo conosci a fondo tutte le mie vie in tutte le mie vie egli starà là egli sarà presente quindi egli conosce il mio cuore abbiamo ascoltato questa lettura tu mi hai esaminato egli esamina quindi il cuore è un pastore che non si occupa soltanto dell'involucro esterno è il pastore che non si occupa soltanto del benessere di questo corpo ma è il pastore che si occupa dell'uomo interiore è il pastore che si occupa dell'anima mia e dell'anima tua è il pastore che pensa al tuo cuore perché è il cuore che ha bisogno di essere toccato dalla mano di Dio è il cuore che ha bisogno di essere lavato per mezzo del sangue di Gesù Cristo è il cuore che ha bisogno di essere incoraggiato è il cuore che ha bisogno di essere consolato è il cuore che ha bisogno di essere sostenuto ed egli pastore dell'anima tua e dell'anima mia conosce il nostro cuore conosce l'orientamento del cuore e ci guida e gli dice attraverso il profeta Geremia poiché io so i pensieri che medito per voi pensieri di pace per darvi un avvenire per darvi una speranza ecco qual è l'interesse del pastore per ciascuno di noi egli conosce il nostro bisogno e prepara quindi proprio come il pastore va innanzi al gregge a preparare il pascolo verdeggiante il sentiero di giustizia le acque cheete le acque calme così il nostro pastore eterno è colui che prepara per te per me la pace prepara per noi un avvenire prepara per noi una speranza e una speranza eterna gloria al Signore sì disse il Signore a Mosè la mia presenza andrà con te e io vi darò riposo e Mosè rispose al Signore se la tua presenza non viene con noi non ci fare neanche partire di qua ma noi abbiamo stasera l'assicurazione la certezza perché le promesse del Signore sono sì ed amen egli starà la e pascolerà il suo greggio egli starà la ed avrà cura di te egli starà la e provvederà per il tuo cibo egli starà la e guiderà la tua e la mia vita egli starà la e ci preserverà da ogni male egli starà la e ti proteggerà ci proteggerà da ogni male tant'è che dice il nostro testo al versetto successivo e quelli abiteranno in pace perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra sarà lui che porterà pace vi è pace perché egli starà la vi è pace stasera perché egli è qui vi è pace perché il pastore rimane in piedi perché il pastore rimane stabile e vi è pace perché il pastore ci protegge i nemici vi sono attorno i nemici provano quindi ad abusare dei credenti dei figliuoli di Dio ma il pastore è colui che osserva che vede e li metterà in fuga nel salmo 23 leggiamo questa affermazione di Davide dice egli apparecchia la mensa al cospetto dei miei nemici apparecchia per me la mensa al cospetto dei miei nemici posso mangiare tranquillo mi posso sedere tranquillo senza preoccuparmi perché anche se mi trovo al cospetto dei nemici e i nemici possono essere tanti anche se mi trovo al cospetto dei nemici oggi sono in pace perché mentre io sono sereno e mi nutro del Signore egli è colui che veglia per me il suo sguardo non si stacca mai dalle sue pecore benedetto il nome del Signore Davide colui che scrive il salmo 23 nella sua giovinezza fu un pastore il giovane pastorello lo ricordate ed egli stesso quando si trovò dinnanzi al re Saul che lo rivestì della sua armatura affinché affrontasse il gigante Goliath Davide ricordate si tolse di dosso quell'armatura e gli disse io non ci sono abituato ma fece un'affermazione meravigliosa straordinaria dice quando io passevo il gregge quando stavo dietro alle mie pecore e veniva l'orso veniva il leone e quindi afferrava una pecora e la portava via io gli correvo dietro gli correvo dietro lo afferravo gli strappavo la preda dalle fauci lo ferivo e lo ammazzavo ecco quindi la figura che ci viene presentata del nostro pastore eterno del dominatore che è pastore dell'anima nostra nel momento in cui il nemico viene per afferrarti nel momento in cui il nemico cerca di sbranarti cerca di divorarti cerca di farti del male il signore stesso interverrà perché sei una pecora che è stata acquistata con il suo prezioso sangue io lo rincorrevo dice Davide lo afferravo e gli aprivo quindi le fauci gli strappavo la preda dalle fauci lo ferivo e lo ammazzavo e abbiamo visto la realizzazione di quest'opera sulla croce quando Cristo ha distrutto l'opera del diavolo lo ha schiacciato sotto i suoi piedi dando a me e a te la piena libertà di poterlo amare e di poterlo servire con tutto il nostro cuore gloria al Signore quindi pensare che il Signore è il mio pastore mi fa pensare al fatto che mi conosce mi fa pensare che la sua mano è sopra di me come abbiamo letto anche qui nel Salmo 139 davanti a me e dietro di me e sopra di me vedete la protezione del sommo pastore per ognuno di noi vedete l'amore per ognuno di noi eppure dice la parola io resto sempre con te perché tu mi hai preso per la mano destra restiamo vicini al nostro pastore eterno cosa saremmo cosa saremmo noi se Dio rimuovesse la sua mano da noi o se Dio rimuovesse il suo sguardo da noi se egli smettesse di guardarci che cosa saremmo noi dove saremmo noi che ne sarebbe della nostra vita ma diamo gloria al Signore il suo sguardo non si stacca mai dalla tua vita e dalla mia vita la sua mano è poggiata sul tuo cuore e sul mio cuore e Gesù stesso disse nessuno vi rapirà dalla mia mano possiamo dire grazie Signore con tutto il nostro cuore egli è il mio pastore mi conosce non solo ma egli è con me dovunque io vado egli è presente egli starà là abbiamo letto torniamo al Salmo 139 e leggiamo ancora qualche altro aspetto di questo Salmo prezioso direi per ciascuno di noi è scritto così se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare anche là mi condurrà la tua mano se salgo in cielo tu vi sei se scendo nel soggiorno dei morti eccoti là se dico certo le tenebre mi nasconderanno la luce diventerà notte intorno a me le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno le tenebre e la luce ti sono uguali quindi prova a immaginare Davide dove potrò fuggire lontano dalla tua presenza lontano dal tuo spirito prova a pensare un luogo dove Dio non c'è un luogo dove Dio non possa raggiungerlo e allora ecco che dice letteralmente dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito dove fuggirò dalla tua presenza e allora se vado in cielo tu ci sei se scendo nel soggiorno dei morti eccoti anche lì se prendo le ali dell'alba vado ad abitare all'estremità del mare anche là mi condurrà la tua mano e se dico le tenebre mi nasconderanno ma le tenebre non possono nasconderti nulla perché tu sei luce quindi vuole semplicemente dire che dovunque ti trovi dovunque ti trovi egli starà là questa è la parola del Signore egli starà là e l'anima mia lo sa molto bene aggiunge anche Davide quindi Dio è con me e mi conosce alla perfezione perché egli mi ha creato egli mi ha formato nel seno di mia madre egli mi ha visto prima della mia nascita egli aveva un progetto per me prima ancora che io nascessi egli ha un ha preparato un futuro per me egli ha un pensiero ha un progetto per la mia vita ed egli rimane con me tutti i giorni della mia vita gloria al Signore egli ci viene presentato come il buon pastore ci viene presentato come il supremo pastore ci viene presentato come il grande pastore ci viene presentato come il pastore eterno cioè egli è il sovrano e al di sopra è il dominatore ma è il pastore eterno vuol dire che per tutta l'eternità egli starà là e noi saremo nella sua divina e gloriosa presenza gloria a Dio egli ama in modo particolare anche i giovani voglio leggere questo piccolo riferimento nel libro di Isaia al capitolo 40 dove parla del suo dominio no e dice ecco il Signore Dio viene al versetto 10 con potenza con il suo braccio egli domina ecco il suo salario è con lui la sua ricompensa lo precede vedete come sta parlando del dominatore no rileggo il versetto ecco il Signore Dio viene con potenza con il suo braccio egli domina il suo salario è con lui la sua ricompensa lo precede subito dopo aggiunge come un pastore egli pascerà il suo greggio raccoglierà gli agnelli in braccio li porterà sul petto condurrà le pecore che allattano ci presenta questa figura che il dominatore con il suo braccio egli domina ma ci spiega come egli domina come un pastore come un pastore che ha cura del suo greggio come un pastore che protegge il suo greggio come un pastore che nutre il suo greggio come un pastore che guida il suo greggio nei sentieri di giustizia come un pastore che consola il suo greggio nel momento della necessità e come un pastore dice egli fascerà il suo greggio quando c'è un turbamento quando c'è un problema quando c'è un'afflizione a chi puoi ricorrere chi è che può fasciare le ferite del cuore chi è che può fasciare le ferite dell'anima chi è che può ristorare l'uomo interiore è il pastore che pascerà e fascerà il suo greggio e aggiunge egli raccoglierà gli agnelli in braccio li porterà sul petto quando parla di agnelli allora pensiamo un po' a chi è ancora in tenera età pensiamo a chi è debole pensiamo a chi è fragile ho il piacere di pensare stasera vi viene questo suggerimento di pensare alla gioventù non siete stranei all'amore non siete stranei alla cura del sommo pastore di colui che domina e vuole prendere cura anche della vostra vita vuole proteggere anche la vostra vita ha dei progetti anche per la vostra vita vuole guidare anche i vostri passi egli ha un amore particolare anche per la gioventù perché gli agnelli li raccoglierà in braccio e li porterà sul suo petto sei particolarmente amato dal Signore Dio ti ama vuole salvarti vuole prendere cura di te lasciati afferrare dalle braccia eterne del Signore lascia che egli ti curi lascia che egli ti conduca e aggiunge condurrà le pecore che allattano quelle che sono particolarmente in difficoltà vengono condotte ad un passo particolare egli non è il pastore che corre avanti ma egli è il pastore che cammina a fianco a noi è il pastore che è dietro di noi è il pastore che è davanti a noi è il pastore che tiene la sua mano sopra di noi questo dice che il Signore non lascia indietro nessuno anche le pecore che allattano vengono curate aspettate e guidate dal Signore io dico gloria a Dio con tutto il mio cuore per questo meraviglioso Signore e concludo con un altro aspetto dal versetto 4 abbiamo letto sarà lui che porterà la pace dopodiché dice quando l'assiro verrà nel nostro paese e metterà il piede nei nostri palazzi noi gli opporremo sette pastori e otto principi del popolo più avanti dice egli ci libererà dall'assiro quando questi verrà nel nostro paese e metterà piede nei nostri confini l'assiro è il nemico ovviamente la Siria è stato un popolo che ha sempre contrastato il popolo di Israele ha spesso assoggettato anche il popolo di Israele quindi ha angariato il popolo di Israele l'assiro arrivava e distruggeva ogni cosa l'assiro arrivava e saccheggiava uccideva dava fuoco ad ogni cosa rappresenta il nemico e vi voglio indurre stasera a fare una piccola riflessione di modo che poi pregheremo insieme stasera quando l'assiro verrà seguite bene nel nostro paese e metterà piede nei nostri palazzi più avanti egli ci libererà dall'assiro quando questi verrà nel nostro paese e metterà piede nei nostri confini nessuno pensi che appartenendo al Signore è immune dagli attacchi del nemico la parola ce lo presenta come un leone ruggente che va attorno cercando chi possa divorare non pensare che il nemico non entri a casa tua che non entri nel tuo palazzo nella tua casa non pensare che non venga nel nostro paese quando dico nel nostro paese mi riferisco anche alla Chiesa il nemico viene per distruggere viene per dividere viene per turbare viene per scoraggiare viene per fare delle vittime viene per fare degli attacchi terroristici letteralmente dal punto di vista spirituale intendiamoci quando l'assiro verrà nel nostro paese e addirittura metterà piede nei nostri palazzi si impossesserà dei palazzi può entrare in casa tua può entrare in casa mia in qualche modo può prendere il controllo della vita nostra di qualche figlio o del marito o della moglie in qualche modo egli entra e mette piede e allora come possiamo liberarci che cosa possiamo fare io e te non abbiamo le forze non abbiamo la capacità per contrastare il nemico perché egli è potente e noi siamo senza forza ma la nostra fiducia sta nel Signore come disse Josaphat quando i nemici erano arrivati quasi a Gerusalemme le popolazioni intorno si erano coalizzate tre nazioni pensate si coalizzarono contro il popolo di Giuda ed erano ormai nel paese alle porte di Gerusalemme e Josaphat non sapeva che fare allora bandì un digiuno per tutto Giuda e tutti anziani giovani bambini si presentarono nella piazza della città e insieme gridarono al Signore e Josaphat nella sua preghiera disse proprio noi non sappiamo che cosa fare ma gli occhi nostri sono rivolti verso di te Signore e allora se sai che il nemico ha posto piede nel tuo paese se sai che l'assiro ha posto piede nel tuo palazzo se sai che il nemico ha posto piede nella tua casa e avverti il disturbo e avverti le difficoltà e avverti i problemi e avverti la sofferenza di una presenza strana nella tua vita e nella tua casa invoca il nome del Signore invoca il nome del Signore che è l'onnipotente il dominatore e il sovrano ma egli è il pastore che ti libererà dall'assiro egli ci libererà dall'assiro quando questi verrà nel nostro paese e metterà piede nei nostri confini il pastore è il tuo ed il mio liberatore a lui vogliamo dare la lode la gloria con tutto il nostro cuore da ora in eterno insieme preghiamo il Signore con tutto il nostro cuore grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.